Schiacciata di broccoli è super croccante, facilissima da fare, un'alternativa saporita è salutare. Prepariamole insieme, per prima cosa mettiamo in una ciotola 400 ml di acqua a temperatura ambiente, poi aggiungiamo 200 g di farina 00, 50 g di formaggio grattugiato, 30 g di olio d'oliva e iniziamo a mescolare il tutto con una frusta fino ad ottenere una pastella liscia. Adesso aggiungiamo anche un cucchiaino di sale e un po' di pepe a piacere. A questo punto aggiungiamo alla pastella 300 g di broccoli che ho precedentemente sbollentato per circa 10 minuti. Continuiamo a mescolare con una spatola o un cucchiaio cercando di spezzare per bene i broccoli. Versiamo la pastella di broccoli su una placca da forno rivestita da carta forno e cerchiamo di livellare bene la superficie e cospargiamo bene tutti i broccoli. Su tutta la superficie aggiungiamo la farina di mais perché darà un'ottima croccantezza e infine un filo d'olio, poi via in forno a 180 gradi, forno statico, per circa 30 minuti. Gli ultimi due minuti azioniamo il grill per dare più croccantezza alla superficie. Pronta per essere gustata, eccola qui, super croccante, vi consiglio di mangiarla ancora calda, ottima anche come antipasto o tagliata a fette come contorno. Buon appetito e alla prossima ricetta!